Il TCG di One Piece sta abbassando le barriere d'ingresso? Quale sarà lo scenario che si presenterà una volta che i prossimi set arriveranno sui tavoli da gioco e che impatto avranno a livello di mercato? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Arrivano notizie dal sollevante per i set RPB01 e la Premium Bandai OP secondo anniversario, che non solo forniranno un kit di nuovi accessori pronti per essere sfoggiati in partita, come Techbox e nuovi Don, ma anche ristampe di rilevanza per le carte più importanti ed incisive apparse da Romans Down fino al recente Winds of Captain. Le notizie arrivate hanno smosso gli animi di diversi aspiranti re dei pirati, dividendo l'opinione pubblica su due fronti ben diversi tra loro. Le ristampe andranno a nuocere al mercato penalizzando tutti coloro che si sono messi in pari recuperandolo corrente a tempo debito attraverso lo sboosting o dal mercato secondario e chi invece apprezza il fatto che sarà molto più semplice reperire pezzi difficili da trovare dato anche l'enorme costo dei box delle prime espansioni e l'oramai corsa all'oro per accaparrarsi quei pezzi fondamentali per i deck che domineranno il meta in OP07. Chi ha ragione? Entrambi e nessuno dei due. La ragione come sempre sta nel mezzo. È vero che i prezzi caleranno a causa delle ristampe, ma è anche vero che chi si sta avvicinando ora al gioco avrà tutto il necessario per iniziare nel migliore dei modi il proprio viaggio tra le profonde acque del Grande Blu. Quindi vento in poppa e si parte alla scoperta delle succose novità che il TCG di One Piece ci riserverà nel futuro. E per farlo, come già accennato, prenderemo in considerazione nello specifico la The Best e il secondo anniversario, che in essi includeranno, oltre ad accessori straordinari, ne parleremo fra poco, anche ristampe molto interessanti che riguarderanno delle staple che tutt'oggi vengono adoperate dai leader più agguerriti. Signori, dalle statistiche di YouTube ho notato che in media il 77% di chi guarda i miei video non è ancora iscritto al canale. Pensate che se solo la metà decidesse di supportare il progetto si raggiungerebbero i 10.000 iscritti in pochissimo tempo. Perciò datemi una mano, se ancora non siete iscritti basta un click. Per voi è un semplice gesto, ma per me è di grande aiuto. Grazie per il supporto. Torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quale sarà il futuro del TCG di casa Bandai dopo l'arrivo delle ristampe presenti nei prossimi prodotti targati One Piece. Andiamo a dargli un'occhiata. L'arrivo del The Best One Piece Car Game ha iniziato già da subito a regalare emozioni attraverso il suo trailer, introducendo una nuova foilatura su icone che hanno reso grandi il metapassato ed odierno come Otama, Chopper e Capone in primo luogo, presentando a riflesso il Jolly Roger di cappello di paglia in pattern su tutta la superficie della carta, comuni trasformati in full art foil come Shiraoshi e le tanto attese ristampe che vedono l'uffi costo 2 OP-01, Boa Blocker OP-01, Doflamingo costo 10 di OP-04, Katakuri Secret di OP-03, un nuovo leader rosso pronto ad entrare in azione, ovvero Sanji, che serve una prelibatezza da lui stesso cucinata, e per finire una serie di donne che andranno ad arricchire il già ricco arsenale di risorse a disposizione di ogni aspirante re dei pirati in tre rarità differenti. Disponibile in Giappone dal 27 luglio 2024, questo set di certo farà parlare di sé sicuramente oltroceano, anche se per il momento non si ha una data certa per l'occidente. Ora, oltre alle carte già viste nel trailer, ci saranno anche le ristampe di Miok costo 9 SR di Romance Down, assieme a Shanks e Yamato, le Secret del medesimo set di riferimento, e molti altri elementi davvero interessanti da recuperare come Kuzan costo 10 di OP-02, Sanji Spilaf di OP-03, Kaido costo 9 dello starter e molte altre, tutte alternative art. E a proposito di queste, sono state presentate perciò per costo 1 Blocker dello starter, le rispettive versioni che potranno fornire a tutti gli spacchettatori seriali un vero tesoro da custodire in stiva. Per quanto riguarda invece il fattore in ristampa, nudo e crudo, come potrà influire questo sull'andamento di mercato una volta che PRB-01 farà il suo debutto in mercato? Ci sarà un calo delle carte regular, almeno questo è quello che prevedo, tenendo a mente il campione che vede altri il TCG introdurre le proprie ristampe nei set a venire. Un calo sarà più che fisionomico. Ma perché? Perché là dove c'era scarsità ora c'è un'offerta più ampia e quindi la domanda verrà soddisfatta riducendo sempre meno il gap che ha separato queste dall'arrivo di OP-01 ad oggi. E per le alternative, Arconte, cosa ne pensi al riguardo? Qui il discorso cambia, ovviamente. Le alternative seguono e continueranno a seguire un mercato tutto loro, anche se agli inizi un calo si presenterà ugualmente. Ma per tutti i possessori di questa tipologia di carte il consiglio che do è non vendete nulla solo per paura di un depreciamento. Anche per chi possiede le carte di OP-01 e tutto il resto fino ad OP-06 non vendete nulla. All'inizio la discesa di valore potrà spaventare, certo, ma ricordate che si potrà differenziare una prima edizione da una ristampa facilmente. Basterà guardare l'artwork presente sulla carta per comprendere immediatamente a quale set apparterà quella stessa carta. E se il tutto seguirà un andamento logico di mercato, i collezionisti tra diversi anni andranno proprio alla ricerca delle Romance Down, Paramount War, eccetera, ristabilizzando il prezzo a cifre piuttosto interessanti. Mentre per chi inizierà ora ad interessarsi alle dinamiche del TCG a tema piratesco, il The Best sarà un ottimo punto di inizio soprattutto per la questione carte staple da recuperare per giocare mazzi presenti in meta. Mentre per l'unico leader presente nel set, ovvero Sanji, personalmente non vedo l'ora di pregustarmi una bella lista pronta da utilizzare assieme a Luffy Costo 2 che abbiamo visto nel trailer, magari con unico Robin a supporto costo 3 di OP-01, Pell SR di OP-04 e diversi gialloni che con l'effetto del leader ci andranno a nozze. Perché Arconte cosa fa? Una sola volta per turno, durante la vostra fase principale, andrà a fornire un pericolosissimo rush a tutti i character con costo pari ad 8 o inferiore sul terreno, a parte che questi ultimi non abbiano la parola chiave on play nel testo degli effetti. E visto che prenderà in considerazione tutti i personaggi alleati? Eh, qui si prevede un bell'agro puro da utilizzare sia nel meta che verrà che soprattutto durante i pre-release. La lista delle carte presenti nel The Best infatti vedrà un solo leader, Sanji per l'appunto 24 carte comuni, 25 non comuni, 4 carte promozionali probabilmente prese tra quelle presenti nel pacchetto fornito assieme al deck introduttivo di Luffy Rosso Verde, questo per intenderci 24 rare, 27 super rare, 8 rare secret e 30 don diversi per un totale di 109 carte più 30. Una flebile certezza comunque mi sorge, per singolo pacchetto sarà presente un pool. Non voglio azzardare dicendo che sarà assicurato, ma visto il numero simile di carte tra comuni, non rare ed SR, qualcosa mi fa pensare a delle bustine piuttosto proficue. Parlando invece del secondo anniversario, preparatevi ad un prodotto davvero straordinario, perché nella confezione, che prevede uno storage box con al suo interno un playmat case con tappetino incluso, un deck box, 4 dadi ed un set da 70 bustine, tutto a tema Nika con trama dorata a sfondo nero, saranno presenti anche 9 carte che già hanno fatto la loro comparsa nel TCG di One Piece. E saranno In Two Years, Adesabao di Arsipelago di OP01, Ace di OP02, Kaia di OP03, Sabo Blocker di OP04, Rosinante Blocker di OP05, Zoro Secret di OP06, Sanji SR di OP07, Charlotte Linlin SR di OP08 e Luffy giallo, costo 5, direttamente dallo starter dei tre fratelli. In più, finalmente, sia il playmat case che il portamazzo non saranno realizzati in plastica, ma similpelle o altro materiale di qualità, così da rendere tutto il necessario pronto per essere utilizzato con stile ed eleganza. Inoltre, sono davvero curioso di sapere se anche il garage, ovvero questo prodotto qua, o simile, verrà realizzato con materiale plus. E se così sarà, beh, il costo sarà più che giustificato. Infatti si parla di un prezzo indicativo di 180 euro per questo prodotto, ma visto quel che fornirà, beh, direi che varrà ogni euro speso. O almeno questo è quello che penso a primo sguardo. Bisognerà testare per bene le chiusure magnetiche, la qualità del prodotto e quant'altro, per avere una certezza più solida sulla reale manifattura dell'intero articolo, ma ne parleremo a tempo debito non appena avrò modo di metterci le mani sopra. Anche qui la ristampa di una carta per set, ed in alcuni casi di carte molto rilevanti, non andrà, a mio avviso, a distruggere la quota delle regular nel lungo periodo. Probabilmente le due categorie prese in esame seguiranno un mercato parallelo senza andare mai ad incontrarsi effettivamente. Concludendo quindi una cosa resta certa, i prodotti in arrivo nei prossimi mesi andranno dapprima a sconquassare il mercato delle singole per poi far tornare il tutto alla normalità o vicino ad essa, assegnando un prezzo ben distinto per singola unità che in futuro vedrà un mercato ben definito e a sé stante. E voi cosa ne pensate? Come potrà influire sul mercato la pubblicazione di tali articoli? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.